C'è un servizio in più per poter sapere chi erano i propri genitori biologici e i motivi per i quali si è resa necessaria l'adozione. Si chiama Serio, servizio per le informazioni sulle origini ed è curato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e mette a disposizione della persona che vuole ricercare le proprie origini un team di consulenti giuridici, psicologi, assistenti sociali ed archivisti. Abbiamo pensato che forse poteva essere il caso di mettere tutto questo che sta accadendo in modo spontaneo all'interno di un progetto che coinvolge naturalmente anche i centri affidi e coinvolge anche il Tribunale per i minorenni per regolamentare e costituire, rappresentare un sopporto, un aiuto, un accompagnamento alle famiglie o alle persone che abbiano voglia di ricercare le proprie origini. Consentire di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori naturali significa aiutare la persona che è stata adottata a riempire un vuoto nella propria vita, è stato spiegato. Un grande impegno sia dal personale qualificato sia anche principalmente direi un aspetto più che altro psicologico perché mettere insieme il diritto dell'adottato insieme al diritto della mamma che dal momento in cui ha partorito, quindi ha dato la luce il proprio figliolo e ha dichiarato l'anonimato non è semplice. Nel 2016 sono state 470 le coppie che in Toscana si sono candidate all'adozione.